Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovi video di news, nuovi video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. La Ubisoft ha annunciato che Might & Magic Heroes 7 sarà disponibile dal prossimo 29 di settembre in esclusiva per Windows PC. Il gioco ovviamente ci porterà in un universo fantasy, ovviamente con un'esperienza strategica, un profondo sistema di progressi in stile GDR e una forte componente narrativa. Dopo il successo della prima beta, dal 26 di agosto al 2 di settembre sarà disponibile una seconda closed beta, che includerà anche le fazioni aggiuntive scelte dai giocatori tramite l'iniziativa del Consiglio dell'Ombra. Al termine delle votazioni, le due fazioni della beta saranno Silvano e Dungeon. Il gioco è sviluppato da Limbic Entertainment, un team composto da veri appassionati della saga, e quindi Might & Magic Heroes 7 promette di essere il miglior titolo della serie, rispettando però la sua lunga tradizione, ma introducendo una serie di novità scelte ovviamente dalla community. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale. Grazie a tutti.